Intensa, importante, la trasferta di Terni dopo la vittoria con lo Spezia? Sicuramente la vittoria di sabato ci ha dato morale e più consapevolezza. Questa settimana è una settimana abbastanza dura, possiamo riprenderci dal punto di vista fisico, specialmente io e magari qualcuno che ha giocato meno in quest'ultimo periodo, è stato infortunato e sicuramente sarà una settimana importante per cercare di fare tre punti fuori casa che ci mancano tanto. Soddisfatto della tua prestazione? Sicuramente devo crescere a livello fisico perché sono stato un mese fermo e voglio ritornare al top come inizio campionato. Sto lavorando ogni giorno per questo e comunque sì, l'importante sono i tre punti che è la cosa fondamentale. Si dice di te che sei un ottimo giocatore ma che ti innamori troppo della palla, cosa rispondi? Quelle credo siano caratteristiche, innamori dalla palla credo fino a un certo punto perché alla fine credo di giocare abbastanza per la squadra e come si è visto anche magari non so col Perugia avevo fatto dei potenziali assist per i compagni, cerco di dialogare con loro quindi non credo di... Se ci sta ogni tanto magari che tento un dribbling o qualcosa ma sono nelle mie caratteristiche quindi non credo ci sia niente di male. Cosa servirà a Terni per non ricommettere gli stessi errori di Trapani? Sicuramente la parte di Trapani ci ha fatto capire tante cose perché in questo campionato bisogna sempre stare sul pezzo soprattutto mentalmente, non lasciare niente al caso. Dovremmo andare con la stessa intensità che ci abbiamo messo il primo tempo con lo Spezia e sicuramente potremmo fare una buonissima partita.